Conferenza stampa sulla vertenza dei massofisioterapisti in servizio presso le strutture sanitarie private accreditate. Presentato un ordine del giorno in loro favore dal consigliere regionale Corrado Gabriele, approvato all'unanimità. Decine di lavoratori a rischio dopo anni di esperienza nel campo della riabilitazione per la mancata inclusione nella nuova disciplina prevista dal decreto 64 del 2011 della loro figura professionale. In sala a presentare le loro ragioni al centro direzionale nella sede del consiglio regionale 19, Giovanni Massio fisioterapisti, cui è stato comunicato il licenziamento in una struttura in provincia di Napoli, con loro i rappresentanti del sindacato nazionale di categoria, il consigliere Gabriele, il capogruppo del PD Umberto del Basso De Caro, il presidente della commissione sanità del consiglio regionale Michele Schiano di Visconti. Noi seguiamo i pazienti dall'inizio del loro ciclo di terapia fino alla fine, avendo anche dei miglioramenti, dei risultati ottimi. Quindi non comprendiamo questa decisione veramente incomprensibile di questo decreto che ci elimina proprio una categoria. Il consigliere Gabriele, impegnato nell'avvertenza al fianco dei lavoratori, illustra la sua azione. Il consiglio regionale ha votato un ordine del giorno all'unanimità con il quale si inquadra la loro situazione professionale e si stabilizza il loro rapporto di lavoro. Adesso tocca a Caldoro dare la giusta interpretazione a questa decisione presa all'unanimità dal consiglio regionale e poi bisognerà controllare che queste aziende non facciano il loro comodo, altrimenti anche i meccanismi di accreditamento devono essere rivisti. Grazie.